... Sindaco, c'è grande emozione per questo evento che riguarda le radici del Mediterraneo e soprattutto mi rendo conto che partire dai comuni del nostro territorio, della nostra provincia significa raccontare un po' di storia. Ma quando si parla di cultura, quando si parla di spettacoli, quando si parla di giovani, quando si parla di rilanciare il ruolo del nostro territorio sicuramente c'è grande emozione e io dico attesa. Noi quest'anno, insieme ai ragazzi del Teatro Ibasco, stiamo costruendo questo appuntamento, RAME Festival legato alle radici del Mediterraneo, con un'attenzione particolare. Ecco perché questo momento di confronto anche con la stampa per far conoscere molto di più di quanto abbiamo già fatto negli anni passati questo importante appuntamento internazionale che incrocia varie culture e artisti di varie nazionalità. Ma l'aspetto che mi preme sottolineare di più, perché quello poi di merito lo ha fatto Simone, lo fanno chi opera poi e chi lavora sugli spettacoli, è quello di provare a rimettere al centro di questo importante appuntamento, insieme anche ad altre comunità, il borgo di Melissa e il mio comune. In una fase difficile, di ripresa, perché come dicevo non siamo nella fase di post-pandemia, ma ce l'auguriamo a breve questa parola, arriviamo ad utilizzarla, perché dobbiamo lasciarci alle spalle questo momento difficile e tornare alla normalità. E questo appuntamento dovrà diventare veramente il trampolino di lancio rispetto ad un comune, ad un'amministrazione comunale che vuole circondarsi di persone che vogliono bene la nostra comunità e quale migliore occasione farlo con giovani, farlo con artisti, gente che crede alle sue origini in parte ed altri invece che credono alla bellezza, alle storie, a quello che raccontano i muri della mia comunità, del mio centro storico. E quindi ecco, l'occasione è quella di invitare tutti a prendere parte a questo importante appuntamento, fine agosto, inizio settembre e magari, perché no, allargarlo ad altri comuni della provincia, all'intero territorio per far sì che la ripresa possa essere anche misurata con la capacità che avremo di vendere cultura, spettacolo, arte, l'Erasmus dei giovani, progetti che ci mettono in condizione di far vedere le nostre bellezze veramente a tutto il mondo. Vice sindaco, la conferenza stampa per presentare questo evento che riguarda chiaramente rame e le radici del Mediterraneo e in tutto questo c'è anche la sua collaborazione come regista? Sì, ognuno di noi dell'amministrazione mette del suo, mette la propria esperienza, le proprie conoscenze affinché questo festival abbia il giusto risalto, il posto che merita. Ovvero sia il ritorno nei borghi, parlo al plurale perché il festival verrà, diciamo, allargato anche ad altri comuni, infatti sulla Roquandina, come vedete, c'è appunto Ciro, Umbriatico, Merissa. Questi sono, diciamo, i punti di sviluppo di questo festival. Deve essere un momento di aggregazione, di colleganza con i comuni limitrofi. Poi la nostra filosofia è proprio questo, il collegamento di guardare al futuro, con uno sguardo appunto, con un piede nel passato, le nostre radici. Ecco perché il rame ha trovato fermento nel nostro comune. Come diceva appunto anche Simone in precedenza, sono sette anni che ormai si lavora alegremente a questo lavoro. Il lavorio che loro fanno ogni anno per formare questo, diciamo, tutto il jet set, fatemi passare questo termine, per organizzare gli spettacoli è un lavoro duro. Noi cerchiamo di essere vicini a loro in tutti i modi possibili e immaginabili. La nostra amministrazione sposa, a pieno titolo, questo momento di aggregazione tra i comuni, soprattutto per le nostre radici, che sono appunto il Mediterraneo. La comunicazione è importante perché raggiungere, diciamo, un po' tutti i calabresi e non solo, con un messaggio diventa quello che è il percorso che bisogna fare. Perché bisogna creare attenzione, bisogna creare entusiasmo e soprattutto la voglia di partecipare. Allora, io mi sono inserito in questo, diciamo, villaggio pensante, dove in due o tre anni con loro abbiamo sviluppato delle situazioni nuove, oltre che il teatro. E quindi ci siamo allargati quest'anno sul territorio, facendo comunicazione, e lavorando con la comunicazione in questi anni. Quindi ci siamo allargati sul territorio e dal teatro abbiamo partorito questo premio polis che stiamo portando avanti. Quest'anno è la seconda edizione, l'anno scorso abbiamo premiato un emporio sociale di Reggio Calabria. Quest'anno abbiamo già individuato una realtà a livello internazionale che sta facendo un lavoro, specialmente in questo periodo, sta facendo un lavoro immane. E quindi noi vogliamo questa realtà internazionale, la vogliamo premiare con il premio polis a Melissa. E questo è il frutto del lavoro della comunicazione che stiamo curando in questi anni. Quindi una comunicazione che tenta e che vuole in tutti i modi mettere in evidenza questo nostro territorio, in particolar modo quei comuni che hanno alle spalle una storia molto forte proprio per quanto riguarda le radici. Ecco perché tramite la comunicazione il frutto di questo lavoro è stata la richiesta di altri comuni di partecipare a questo festival. Noi saremo ad Umbriatico dove all'interno della Basilica di Umbriatico si svolgerà un momento di teatro sacro. Poi saremo ai mercati saraceni a Ciro Marina che è il fulcro culturale della cittadina. Poi saremo a Verzino dove con i ragazzi Erasmus creeremo questo percorso culturale ed ambientalistico. Ecco questo significa lavorare con la cultura sul territorio perché i frutti giustamente come diceva Simone non si vedono subito ma cadono a pioggia e possono cadere subito come possono cadere col tempo. Questo è il nostro lavoro che piano piano stiamo facendo. Noi quest'anno abbiamo fatto questo programma insieme perché io dico sempre che ognuno di noi ha qualcosa da fare e io dico chi deve fare cosa. Quindi rispettando i ruoli ecco che nascono le cose buone. ed ecco che lavorando insieme in sinergia nasce questo festival che adesso si espande sul territorio ma loro già da dopodomani andranno in tournée in Iran, in Lituania. Quindi noi abbiamo effettivamente degli artisti internazionali. Simone è stata presentata in conferenza stampa una bella iniziativa che riguarda Rame, identità mediterranea? Sì praticamente Rame e le radici del Mediterraneo è un festival che noi facciamo dal 2020 nel comune di Melissa e quest'anno stiamo presentando il progetto, la progettualità che intendiamo vorremmo portare a termine nella fine di agosto e inizio settembre. Quali sono le novità? Le novità sono che cerchiamo di esplorare i territori limitrofi al comune di Melissa che da ormai sei anni ci ospita per la progettualità di Rame che prima era residenza culturale e adesso è diventata un festival di teatro e arti performative che coinvolge maestranze e artisti a livello internazionale, quindi da fuori dell'Italia, da Europa ma anche da altri continenti. Quanto dovrerà tutto questo festival? Allora il festival quest'anno coinvolge tre settimane, l'ultima di agosto e le prime due di settembre. Però l'organizzazione come è chiaro, chiaramente noi iniziamo da inizio dell'anno, quindi da gennaio fino a quello che è poi l'output finale che sarà in piena estate. Marzia, il tuo è un ruolo particolare in questo festival? Allora, tutta la nostra compagnia ha sia un ruolo artistico che un ruolo organizzativo quindi in questo festival io sono attrice perché debutterà il nostro spettacolo, la nostra nuova produzione che è Circe ma mi occupo anche dell'amministrazione e dell'organizzazione. Avete iniziato a lavorare già dall'inizio del 2022? Sì, proprio a gennaio abbiamo iniziato a contattare le compagnie che ci saranno quest'anno abbiamo scritto un progetto che è quello dell'Erasmus Plus e parteciperanno quest'anno 25 giovani che vengono da Lituania, Romania, Portogallo e Italia. Il sud dell'Italia diventa il centro internazionale del teatro e di questo festival? Sì, è proprio questo il sogno, diciamo. Siamo arrivati in Calabria a Melissa nel 2015 e vedendo quel territorio su proposta anche di Simone, regista della compagnia, ha detto qui sarebbe bello creare un polo interculturale in cui passano varie culture, persone di tutte le età artisti e spettatori e quindi a mano a mano stiamo cercando di costruire questo polo, questo crocevia. Grazie. Grazie a tutti.